Movida a Brucoli denunciato in titolare che è organizzata una serata danzante non autorizzata. L'agente del commissariato di Augusta hanno effettuato controlli amministrativi concentrati sui luoghi della Movida caratterizzati da una significativa presenza dei turisti sia nel comune di Augusta che nella frazione di Brucoli. In specie in un locale sono state riscontrate alcune violazioni riguardanti lo svolgimento di una serata danzante. La persona che organizzava l'evento non era autorizzata a rappresentare il titolare della licenza di polizia e inoltre l'emissione musicale mediante amplificatori si prolungava oltre l'orario stabilito dall'ordinanza sindacale del comune di Augusta fissato per l'1.30 nonostante lo stesso titolare del locale fosse stato già diffidato al rispetto delle autorizzazioni di polizia. Sul posto venivano sorpresi quattro lavoratori privi di contratto e tre persone addette ai servizi di sicurezza e controllo prive della prescritta e necessaria iscrizione all'albo prefettizio. Il titolare dell'attività veniva sanzionato amministrativamente per un totale di 20.000 euro e veniva denunciata dall'autorità giudiziaria competente per le violazioni di carattere penale.